benvenuti qui su da game channel oggi per una classifica una top 10 una top 10 alquanto particolare che non avevo ancora fatto ed è la top 10 dei miei giochi preferiti in assoluto di quelli che appunto tra quelli che appunto fino adesso ho giocato e appunto più in là magari questa classifica verrà aggiornata perché ci sono altri giochi per esempio che anche adesso sto giocando che potrebbero essere inseriti chi lo sa e magari sentirete anche delle come dire dei pareri dello zio di nì per esempio o anche di anzo di junior in merito a questa classifica e quindi magari la loro classifica personale quindi direi che l'introduzione è fatta signori vi ricordo di accendere la campanella in lina anzi prima di scrivervi e poi di accenderla per rimanere aggiornati sui prossimi video e di mettere un bel like se il video vi piace se non vi piace niente non lo mettete cominciamo dalla decima posizione con titan fall 2 titan fall 2 un gioco elettroni cards adesso se non vado errato dovrebbe essere proprio elettroni cards un gioco sparatutto fantascientifico diciamo molto diverso dagli sparatutto a cui ero abituato fino a quel momento sempre giocato i vari battlefield call of duty ma questo diciamo che è un uno sparatutto con una storia bella solida il suo centro il suo fulcro è proprio la storia non è il multiplayer nonostante ci sia il appunto il multiplayer online e molto bello anche quello con una suddivisione in classi l'utilizzo dei titan che sono questi enormi robot che il tuo personaggio guida e molto ben fatto un gioco veramente molto ben fatto su tutti i punti di vista per il mio e che mette anche un certo grado di sfida secondo me se lo si gioca a modalità normale io l'ho giocato così modalità media quella base diciamo non facile perché potrebbe essere troppo troppo semplice e allora non mi sarei divertito è un gioco che consiglio un protagonista che in realtà io non ho giocato il primo premetto in realtà non l'ho trovato così ben caratterizzato che è jack cooper mentre il come si chiama il titan bt è molto molto più importante interessante come personaggio nonostante sia solo un robot con un'intelligenza artificiale che all'inizio non pare avere una come dire una grossa personalità e alla fine si vedrà essere invece un personaggio che rimane nel cuore ecco il finale davvero bello la fase land game l'ho trovata forse quella la parte che spinge di più poi in generale il gioco veramente da del suo meglio in tutto e per tutto aspetto tanto un titan fall 3 non so non credo che mai che uscirà ma chi lo sa non ha posizione per battlefield one battlefield one è stato anche questo uno sparatutto tra l'altro il mio è il mio sparatutto preferito a attualmente un gioco ricco di mappe ricco di scenari di modalità le mappe erano sì grandi ma non quanto battlefield 2042 che attualmente ha allargato nuovamente la dimensione appunto delle mappe e però come dire il gameplay lascia desiderare rispetto ai precedenti e infatti questo io ritengo anche dal punto di vista del realismo dal punto di vista proprio delle ambientazioni dell'esperienza di gioco che da sia è assolutamente il migliore veramente secondo me l'essenza di battlefield il più bello che abbia mai giocato e ho giocato anche quelli precedenti a battlefield one cioè un paio precedenti e basta non così approfondita come questo ma appunto è uno di quelli tra l'altro con cui su cui ho speso più ore mi pare fossero 170 200 ore e infatti mi è rimasto nel cuore quindi non ha posizione per battlefield one ottava posizione invece per star wars il potere della forza 2 questo è stato il mio primo star wars io non ero giocato quando ero un po più piccolo in infanzia ecco non credevo ci fossero videogiochi di star wars io sono un appassionato della saga di star wars proprio in generale libri film serie tv e non pensavo ci fossero al tempo e quando l'ho trovato appunto in un negozio non ho fatto non ho potuto fare a meno di comprarlo l'ho dovuto assolutamente comprare e appunto meritatamente va in ottava posizione poteva essere più su ma ci sono degli altri giochi che gli rubano le varie gli vari spazi le varie posizioni un gioco di star wars è ricco di scenari di collegamenti con i vari film yoda personaggi vari le boss fight davvero belle e anche particolarmente complicate da che mi ricordi c'erano delle parti veramente tostine e non mi ricordo ho un vago ricordo che non si poteva impostare la difficoltà e quindi era pre come dire pre confezionata tra virgolette e poi un finale che non vi spoilero ma era molto interessante perché ti dava la possibilità di fare una scelta e che ti avrebbe portato a un finale piuttosto che un altro e secondo me è una cosa bellissima ma in maniera proprio cioè cambia effettivamente l'esperienza di gioco ovvio non è come giochi come che ne so ivy rain dove tutto quello che fai modifica il corso della storia ma secondo me questo è davvero davvero bello e dunque passiamo alla settima posizione per kirby's adventure wii è stato uno dei giochi dei videogiochi che più ho giocato in durante l'infanzia l'ho finito tutto mi pare forse anche una seconda volta l'ho giocato e rigiocato e rigiocato ancora un classico della nintendo infatti lo giocavo su wii è proprio che bisaventi e appunto un mi pare fosse adesso non vorrei usare dei termini scorretti ma è comunque un gioco a scorrimento laterale questo sicuramente di quelli un po che ricordano per esempio i vari super mario così e infatti per me rimane un classico che rigiocherei rigiocherei e sicuramente non con poca difficoltà lo giocai al tempo con mio fratello e mi divertì molto rimasto nel cuore grande kirby e signori sesta posizione detroit become you l'ho chiamato l'ho chiamato ho detto iv rain prima e non detroit per non spoilerare una possibile posizione più in là e infatti eccola qua sesta posizione per detroit become you man un gioco che ti mette di fronte a delle scelte veramente difficili delle scelte che non da cui non ti puoi come dire tirare indietro ti mette di fronte la possibilità di giocare con tre personaggi diversi tre storie diverse le e che si intrecciano alla fine e è come giocare un film o una serie in maniera molto interattiva ma appunto senza come dire diventare solo scenografico e senza è un gioco davvero bello nella sua storia regge ti tiene incollato parte lento parte lento è un po proprio come una serie tv effettivamente parte lento e poi decolla e quando decolla diventa molto molto interessante e poi sicuramente la possibilità di finali è di vari finali è altissima cioè quando tu ci giochi e prendi le tue decisioni crei come dire una storia che è solo tua ora qualcun altro può averla fatta uguale a te nel senso identica nelle coincidenze e nelle scelte però come dire la sensazione è quello proprio di aver fatto di aver giocato una storia che solo tu hai giocato e secondo me è uno di quei giochi che non bisogna giocare una seconda volta a meno che non lo sia come dire vissuto bene la prima ma la seconda volta secondo me è un po inutile perché si sanno già delle cose si è spinti a provare delle altre scelte e perde un po l'esperienza originale l'esperienza originale e in tal senso dovrò provare a giocare anche Ivy Rain perché mi manca sinceramente ed è della stessa casa produttrice direi di passare però alla quinta posizione per The Witcher 3 Wild Hunt The Witcher 3 Wild Hunt che io considero l'open world per eccellenza e non solo io lo considero da quanto ho potuto sentire qua e là un gioco che tra l'altro non ho ancora finito lo sto ancora giocando dura molto è un gioco che dura molto ma che ti viene voglia veramente di fare ogni quest e prima di fare la principale per non perderti le secondarie ti viene voglia proprio di farle i contratti appunto le varie secondarie che sono anche piuttosto corpose non sono delle missioncine così porta al pane al panettiere no sono delle belle quest con delle storie il fatto di poterti potenziare sempre di più le armi le cose cioè veramente fatto bene strutturato a meraviglia e in cui anche se il mondo non è gigante come in giochi come Red Dead Redemption 2 che mi è piaciuto anche quello ma nonostante non sia così grande comunque ti viene voglia di giocare più a questo che ad altri le cui mappe sono qualcosa di immense perché non è secondo me la dimensione e l'importanza negli open world ma è la sostanza ciò che quel mondo ti offre e deve essere un mondo vivo vivo che veramente sia percepibile ecco e questo sicuramente succede con The Witcher 3 poi va bene Geralt di Rivia è secondo me è uno dei miei secondo me sicuramente la mia lista dicevo è uno dei miei personaggi preferiti nei videogiochi poi credo che in futuro vedrete anche una lista una top 10 dei miei personaggi preferiti proprio nei videogiochi perché dopo questa non me la posso lasciare scappare quarta posizione attenzione che ci avviciniamo al podio Uncharted 4 Uncharted 4 io ho già giocato Uncharted 3 per metà l'ho lasciato da parte perché non mi piaceva così tanto l'avevo messo qualche anno fa sul plus e me ne sono innamorato tanto che lo sto giocando una seconda volta e difficilmente io gioco due volte un videogame che ho già finito completamente a maggior ragione non lo rinizio se l'ho lasciato a metà ma questo qui veramente porta diciamo una storia veramente bella è un gioco d'avventura ovviamente si differisce veramente molto da Tomb Raider è originale ti propone scenari sempre diversi sembra di vedere un po' come gioco di giocare ecco Mission Impossible mi piace fare questo paragone un misto tra Mission Impossible e Indiana Jones ed è meravigliosa come cosa perché propone veramente anche dei momenti di sparatutto belli sicuramente è un po' inverosimile come trama e non è comunque un fantasy guardate bene propone degli enigmi ambientali interessanti sicuramente più facili di quelli del 3 per mia esperienza personale è un finale molto bello che apre la possibilità di un futuro Uncharted senza però Drake che è un protagonista veramente che mi è piaciuto molto poi vedrete nella top 10 dei personaggi dove si andrà a posizionare poi anche i secondari ovviamente che fanno da contorno riescono a tenere molto bene la struttura della trama e anche il cattivo il cattivo è particolare devo dire forse ci sono cattivi ci sono stati cattivi migliori ma non è male anche quello dunque podio terza posizione e qui e qui mi si dirà mostro ma non posso non mettere God of War l'ultimo uscito quello del 2018 God of War l'ho giocato tutto sono pronto per la seconda run mi mancano le Valkyrie ma l'ho completato quasi del tutto veramente bellissimo nella sua progressione a livello di storia come open world non è un grandissimo open world ma propone degli scontri molto belli anche dal punto di vista visivo cioè sono quasi cinematografici non so come dire mi piaccio molto poi le armi che utilizzi vabbè l'arma che utilizzi non posso fare spoiler questa ascia di cui non mi ricordo il nome però è un'ascia meravigliosa un'arma che mi rimarrà nel cuore magari averla veramente no sto scherzando che ci taglio la legna no ci taglio le teste dei mostri di questo mondo divino perché effettivamente è così si incontrano diversi personaggi ecco della mitologia non rena riproposti in maniera molto diversa dal classico per esempio c'è un finale segreto che non è proprio un finale segreto diciamo è un preannuncio ma ormai lo posso dire perché tanto sta per uscire God of War Ragnarok almeno uscirà in questo 2022 se non vado errato ed è Thor per esempio Thor non è rappresentato come per esempio nella Marvel o come nell'ideologia comune un come dire un omone di due metri forzuto col martello viene rappresentato qui come un ciccione ecco come sostanzialmente come Thor in Avengers Infinity War e Endgame e quindi ripropone anche delle figure in maniera molto diversa e diciamo che sono anche ci sono dei personaggi anche carismatici per esempio Baldur che si incontra all'inizio il tratto comico vabbè con Mimir un altro personaggio iconico e sicuramente la progressione è veramente bella di tutta la storia proprio i vari livelli i vari boss è un gioco che consiglio tutti e ripeto io che non rigioco facilmente i giochi giochi sto facendo un sacco di giochi di parole l'ho fatto di nuovo lo consiglio veramente io lo sto sono pronto per la seconda run per cui dunque seconda posizione Bioshock dunque il primo capitolo di Bioshock non potevano rientrare in questa lista e merita assolutamente la seconda posizione un titolo vecchio perché è vecchio allo stato attuale è del 2007 se non vado sempre se non vado in rato e quindi ha un bel po' di anni la remastered come dire propone un titolo veramente non so neanche bene come definirlo perché ho usato un sacco di aggettivi durante tutta la top 10 e questo qui li supera ecco li supera tutti perché ha una storia che tiene tantissimo nonostante il protagonista non sia mai definito nell'identità è un protagonista che è praticamente assente in realtà sei tu ti aiuta questo secondo me ad immedesimarti nel personaggio ambientazioni veramente particolari un gioco inquietante mette davvero inquietudine andatevi a vedere trovate la serie su Bioshock sul canale trovate anche i parliamo di qualche spin off qualche cosa e vedrete un po' com'è è veramente con la sua figura iconica che è il Big Daddy che è una figura che anche questa nonostante non siano personaggi che parlano interagiscono sono dei piccoli boss dei mini boss caratteristici iconici secondo me dell'intero panorama videoludico con una rapture che è la città sottomarina dove ci si trova che veramente vi rimarrà come ambientazione vi rimarrà nel cuore e non ve ne scorderete mai ve lo posso garantire e veramente non è neanche tanto lungo non è neanche tanto lungo ve lo consiglio modalità così faccio anche qualche consiglio modalità dinamica e partendo da o facile o media tanto poi si aumenta da sola parti più semplici così impari anche le dinamiche diciamo che ecco la parte dello sparatutto che è la parte diciamo di gameplay fondamentale è molto diversa da quella attuale presenta per esempio le mappe che di solito ultimamente nei giochi io non vedo giochi di quel tipo di quel genere infatti se andate su per esempio Titanfall 2 ecco lì non ci sono le mappe Bioshock 3 Infinite Bioshock Infinite per esempio anche questo l'ho giocato è molto simile come gameplay a Titanfall 2 e non presenta anche lì le mappe presenta uno stile completamente diverso e comunque ripeto un gioco davvero davvero bello ve lo straconsiglio ve lo straconsiglio dunque prima del primo posto io mi sorfermerei su alcune menzioni onorevoli che sono giochi che mancano all'appello perché come dire avrebbero meritato di essere inseriti ma ma non posso inserirli come dire questi dieci meno quello che adesso vi dirò appunto li superano di gran lunga e dunque menzioni onorevoli Need for Speed Payback trovate anche una serie sul canale è un titolo la cui trama la cui storia è penosa scusatemi lo devo dire ma dal punto di vista del gioco del gameplay è veramente divertente un gioco di macchine che non può che essere definito meraviglioso è uno dei miei preferiti addirittura che preferisco a GT Sport Gran Turismo Sport quindi molti potrebbero darmi dell'eretico ma secondo me è anche il miglior Need for Speed che abbiano mai fatto e ho provato anche qualcun altro tranne l'ultimo poi la serie dei Little Nightmares con DLC 1 e 2 trovate Little Nightmares 1 sulla serie sul canale con Junior e usciranno anche i DLC ovviamente sempre con Junior e Little Nightmares 2 ecco questi qui questo brand alla fin fine non è stato inserito perché diciamo è ancora fresco l'ho appena giocato e ci sono dei giochi appunto quelli che avete sentito che li superano attualmente però è sicuramente un titolo che consiglio breve ma intenso veramente breve ma intenso dura 6 ore il primo 7 il secondo e ve lo godrete molto davvero con anche è un gameplay molto particolare tra l'altro ha un misto trascorrimento laterale in profondità inquietantissimo un horror uno dei pochi horror che ho giocato FIFA e PES come brand sono due sportivi PES in particolare PES 2020 FIFA un po' tutti dal 15 in poi tranne il 21 e il 22 che li ho abbandonati perché non ritenevo assolutamente meritevoli di un acquisto e sono giochi assolutamente che non ho potuto inserire in quanto sono degli sportivi gli altri diciamo li superano di gran lunga ma io li ho giocati tantissimo quindi li metto tra le dimensioni onorevoli come anche Bioshock 2 il sequel del Bioshock che ho inserito in seconda posizione e che riesce a continuare la saga in maniera eccellente sicuramente è un calando dal primo al terzo tiene bene come trama ma e quindi anche come finale come tutto sicuramente il terzo è più bello come finale ecco il secondo diciamo che ecco il finale del secondo non non riesce a tenere botta a quello del primo e del terzo secondo me ma poi ne parleremo meglio anche con lo zio di Nick che mi ha accompagnato nella serie di Bioshock 2 che trovate sempre sul canale prima posizione il mio gioco preferito in assoluto la terra di mezzo l'ombra della guerra il gioco ispirato alla saga del Signore degli Anelli e lo Hobbit del grandissimo scrittore Tolkien è un gioco che veramente veramente mi ha segnato profondamente un open world ristretto non ci sono mappe enormi sono come dire relativamente ristrette ma propone delle dinamiche che io ho apprezzato tantissimo non vedo l'ora del prossimo del prossimo gioco di Monolith spero in un sequel ma non credo ne uscirà come sempre trovate qualche video di l'ombra della guerra sul canale e appunto perché Monolith dovrebbe far uscire Wonder Woman se non sbaglio così era stato annunciato ma non si sa quando e con il sistema Nemesis che rende questo gioco unico non potevo non inserirlo primo il sistema Nemesis che fa in modo che l'interazione con i nemici e con quindi gli altri con il mondo di gioco sia profondissima un orco per esempio che tu uccidi potrebbe ritornare si ricorderà di te la CPU in ogni suo personaggio si ricorda del tuo Talion un protagonista non perfettamente caratterizzato anche a livello psicologico e tutto quanto proprio come carattere però che tiene tantissimo come anche Celebrimbor in questo titolo i colpi di scena ci sono ci sono più avanti le boss fight mi sono piaciute tantissimo e appunto con il sistema della guerra quindi tu recluti i tuoi orchi appunto che diventano tuoi fedeli con l'anello di Celebrimbor diventano tuoi fedeli e fai sostanzialmente la guerra ai vari forti delle varie mappe che ci sono ho giocato anche il DLC trovate la serie su sul canale quella di Baranor la desolazione di Mordor ecco diciamo il DLC adesso mi manca la lama di Galadriel che credo che sarà comunque molto bello ma è un più un'aspettativa Baranor diciamo è stato carino bella la serie bello averlo giocato però potevano fare molto di più mentre la storia principale è qualcosa di unico per me e indimenticabile tuttora continuo a tornarci a giocare a potenziare il mio personaggio a fare varie sfide anche l'online è gestito molto bene le faide online e non solo anche le conquiste online il sistema delle arene con gli scontri tra orchi le varie quest secondarie con cui interpreti Celebrimbor ed è un mondo che è vivo forse meno che in The Witcher che come detto è all'apice secondo me del come dire in cima su tutti gli open world ma è comunque quello di L'Ombra della Guerra un mondo vivo fatto sostanzialmente di nemici ah ecco un'altra cosa il bestiario i vari Graug i Karagor i Drachi che poi i Calavalkare e veramente come sistema anche il sistema stesso di combattimento è molto bello ben riuscito e ora io non sono un critico però diciamo che queste sono le considerazioni che meglio riesco a fare su quelli che sono i miei giochi sostanzialmente preferiti e signori questa è la mia top 10 io spero vi sia piaciuta se la condividete condividete alcune posizioni scrivetemelo nei commenti se avreste cambiato qualcosa per vostro gusto personale scrivetelo scrivetemi magari la vostra classifica se ce l'avete e che dire io signori vi invito di nuovo iscrivervi al canale se vi va accendere la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video mettete un bel like se vi è piaciuto il video se non vi è piaciuto non mettete like iscrivetevi al canale come al solito e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti ciao ciao